Si è tenuta ieri l'iniziativa Save the Mountains, un appuntamento di educazione alla sostenibilità che aveva l'obiettivo di coinvolgere, sensibilizzare ed educare tanti appassionati e non di montagna al vivere l'ambiente in modo sostenibile. Nei 19 rifugi orobici la partecipazione è stata però inferiore alle aspettative. Il presidente del CAI di Bergamo, Paolo Valotti, ha dichiarato che l'obiettivo di questo progetto era aumentare la conoscenza e la consapevolezza della montagna. Il campo base della manifestazione è stato allestito al rifugio Kuroi all'Ostello e l'incontro è stato teatro di riflessioni sul tema del vivere in montagna rispettandola. Nei giorni scorsi era stata lanciata la campagna di adesione con cui i partecipanti hanno potuto ottenere la maglietta del progetto, una spilla, una borraccia e un sacco da utilizzare per portare a casa i rifiuti. Tra i tanti punti sviluppati nelle carte della sostenibilità di Save the Mountains figura infatti pure quello di fare la differenziata anche quando si va in montagna e si torna dalle escursioni. E' stato anche presentato il libro Mi Impegno, da ieri disponibile presso tutti i rifugi dell'Europia, un documento con cui mettere nero su bianco la propria adesione a principi volti ad un approccio sano e sostenibile della montagna. L'Università degli Studi di Bergamo ha voluto essere presente e collaborare attivamente a questo progetto. Sì, abbiamo fatto il patrocinio a questa iniziativa per diversi motivi. Innanzitutto perché è un progetto che riguarda i giovani, per i giovani. Oggi in tutti i rifugi dell'Europia bergamasca ci sono i nostri studenti del centro universitario sportivo. E' un'iniziativa che sono convinto può e deve avere un seguito nella misura in cui abbiamo attorno alla montagna diverse discipline che indagano la possibilità di un rilancio della montagna proprio come strumento di comunicazione e di formazione. Una delle idee è quella proprio di portare qui all'ostello del Curò una buona parte delle lezioni di un master che partirà il prossimo mese di novembre. Un master che riguarda proprio il turismo montano e non solo. E quindi la possibilità di fare delle lezioni in modo residenziale, penso sia anche questa una delle iniziative che l'università debba sposare per un rilancio sempre maggiore del territorio. Ha voluto essere presente oggi? Beh oggi è una giornata in cui bisogna rispondere presente e arrivare a questi meravigliosi luoghi della montagna bergamasca. Ci siamo saliti a piedi da Valbondione con Alessandro Bigoni fino qui al Curò. Era un po' di anni che non ci venivo, non lo ricordavo così bello. Sono molto felice di essere qui e sono contento che l'iniziativa del CAI abbia avuto una risposta così numerosa perché significa che davvero qualche volta bisogna soltanto chiamare e la gente risponde. Pronto anche lei quindi a sottoscrivere gli impegni che oggi di fatto le persone potranno prendere mettendo una firma sul diario che ci sarà qui al rifugio? Sì, ci sono impegni da prendere collettivamente ma anche individualmente per proteggere e valorizzare la montagna. È chiaro che ci sono appassionati che la conoscono, la frequentano in continuazione ma perché ci sia un risultato è necessario allargare un po' la base e avvicinare alla montagna la sua conoscenza e anche ai valori che comunica anche le persone che magari ci vengono giusto una volta ogni tanto. Sì, è una bellissima giornata sia dal punto di vista meteorologico che come significato. Oggi siamo qui presenti al rifugio Curò a testimoniare appunto Save the Mountain un evento che significa rispetto dell'ambiente, montagna sostenibile, abbiamo il kit per raccogliere i rifiuti per portarli non solo in valle ma portarli a casa per fare una raccolta differenziata come si deve è proprio un segnale per tutelare il nostro bellissimo territorio, i nostri bellissimi rifugi. Penso che sia significativo e importante testimoniare le bellezze del nostro territorio in questo caso della Val Seriana, in generale di tutte le valli bergamasche perché teniamo molto al nostro ambiente e quindi oggi siamo qui presenti appunto per dare questa testimonianza.